Ciao ragazzi, allora so che il 10 maggio ci sarà la cerimonia di apertura degli Smart Games. Io sono molto contento di vedere che anche in questo periodo particolare non vi siete fermati con gli allenamenti, anzi state organizzando delle gare, quindi sono con voi, vi faccio il mio grosso in bocca al lupo, vi tiferò, non vedo l'ora di vedervi gareggiare, ancora complimenti, anche io mi sono allenato, vedete qua, ancora i muscoli ci sono, e niente ragazzi, complimenti, andate avanti così, vi seguirò. Ciao!